Eccolo qua Gamer, gli dai il benvenuto ragazzi il vero sull'indonore.it quindi è normale questo qua che fa allora tocca fare un camionzzone lading cadere che butta ah e io posso buttare solo questo xd quack 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 no e insomma tu solo una carta vuoi buttare quattro una sola? eh pensa di si, se non fai qualche pazzeria che è questa esatto rosirò oh oh io direi di prendere quel quattro mi hai piaciuto comodo e conveniente ma no prontosi tu non riattacca fa pronto tu quindicenna ma si già donna e se non è un avventura tu che sei un avventura pronto adesso che tu guarda ti nemmeno due no mamma mi beh dai c'è sta manguaiato oh 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 tu cingga finale eh tra cingga e sei è deludente si è deludente si è deludente allora vediamo un po' cosa ci propone Anna K02 positiva scappa da Milano in treno arrestato in stazione a Napoli si è agita ma che altro no è vero è stato arrestato ehi no non mi hai detto che era stato arrestato ehi 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 oh oh che si che 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 cacco e che che nooo vero sono curiosa di sapere quell'otto chilotine ecco sei stata immediatamente accontentata tu quindicenna ma si c'è il donno brava ragione furbar volpar ensi quindi io farei così oh ok 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 e la foto sotto è bella e apre il mare, più ha scopo ci sono le scopo che inizia i soldi di punto eh no carta singola, si pazza l'importante è non far fare la scopa, altrimenti andiamo pari se loro facessero 4 punti eh ma mi fa pure 4 punti però eh no dicono siamo a 19, più 2 scopo è 21 e loro pure fanno 4 punti ma è troppo rischiuso questo fatto che ho bufato ma di casi gioco che in difesa eh no ma anzi ho in difesa ma no no i giovani di nese ahhh eeeh Grazie. Grazie. Che mazza. Non è servito a dire, abbiamo fatto 4 punti, non nemmeno ci siamo riusciti. Eh, 20 punti. Ho scolito. Andrò a finire così. Mazza. Perché gli scopi ha iniziato. E poi per creare negli set sempre. A me sta passando negli set. E basta. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Che lazza.